Il secondo tempo gli abbiamo concesso soltanto i contropiedi in tutta la partita Poi è normale, loro si sono allargati un pochettino le maglie, si sono andati a rete Anche se tu che hai visto la partita l'hai visto Il secondo tempo ti si è mangiato 4 golle, come devi fare per segnare? Palloni che passano davanti alla linea e non lo buttiamo dentro A tu per tu con il portiere la buttiamo fuori, la tiriamo addosso Ti ripeto, io avevo visto bene la squadra contro il Montepaona, ha fatto una bella prestazione Oggi la prestazione non posso dire niente Sotto forse siamo un po' troppo nervosi perché ci mancava la vittoria E ci mangiamo forse troppi gol proprio per frenesia Però una bella squadra, una bella partita oggi Una bella partita, forse potevano starci anche qualche gol in più Perché comunque sia noi che noi abbiamo creato tantissime azioni Abbiamo giocato, tutte e due le squadre hanno provato a giocare palla a terra Quindi è normale che noi pecchiamo lì davanti perché non riusciamo a buttarla dentro Nell'azione che dicevi tu sul gol Praticamente due dei giocatori nostri hanno sbagliato un gol proprio davanti alla linea Il primo di testa e l'altro col sinistro da un metro dalla porta Nella ripartenza hanno segnato loro Poi il calcio è una legge del calcio, gol mangiato e gol subito Però credo che questa partita sicuramente poteva starci un pareggio Grazie a tutti